Il Presidente ha prospettato anche l'ingresso in società con determinati comiti, determinati uomini, così come succede con la canestra e con un gran maggior. Ci sarebbe la possibilità di coinvolgirlo in qualche mansione che possa dare l'uspo a queste società? Non vedo perché non potrebbe essere. Tutti quelli che vogliono dare qualcosa per noi, qualcosa del senso, non del senso economico, del senso, un tutto, eh. Quanti tributano, di esperienza, non restano in lavorato il discorso? No, no, diciamo che è prematuro perché ci siamo visti, cioè tutta questa cosa è nata perché parlando con lui, il Presidente dice no, quello viene a vedere la partita, si mette da un lato, paga il biglietto, beh, non mi sembra una cosa tanta bella. E infatti lo fai chiamare, ho detto, voglio a mano, ci voglio parlare un altro. Siccome la gente ne ha parlato bene, com'è che si vede la partita solo, insomma, in un angolo, non l'ho visto mai. Infatti ci ho parlato e mi è sembrata una persona molto tranquilla. ma si vede, cioè si sente che ancora si sente ancora Presidente della settimana. E mi fa piacere.